Grazie a tutti Grazie a tutti E chi meglio degli americani riesce a fare una cosa del genere? E' anche una questione di estetica, è ovvio che se vado a vedere una cosa su uno schermo molto grande e se devo muovere il culo da casa lo faccio sicuramente per una questione di... voglio che mi si rincoglionisca gli effetti speciali ormai la concezione è quella, forse in Italia siamo rimasti un po' indietro da quel punto di vista adesso il Dolby Surround ti stupra, il suono ti arriva da sotto, sotto al culo e dietro ti arriva e esci poi insomma poi diventa il consultorio, da un salto al consultorio da un psicologo e noi siamo rimasti un po' indietro, cioè è ovvio che se io devo andare al cinema e mi devo vedere la situazione tipo il dramma domestico, due camere e cucina, me lo vedo su Torrent, oddio non dovevo dire Torrent però adesso arriva la suota che si fonde il fatto è che una volta, non tanto dopo l'avvento della televisione ma dopo la fine degli anni 70-80 quando abbiamo smesso, magari io manco esistevo, anzi quasi sicuramente non esistevo negli anni 70 però comunque sia so che l'Italia aveva molte coproduzioni con l'estero c'erano registi come Lucio Fulci, c'era Fernando Di Leo, c'era Castellari, c'erano molti registi coraggiosi del genere che riuscivano a vendere film all'estero, comunque sia si producevano 86-90 film all'anno oggi se ne producono 8, è il grasso che cola quelli che arrivano all'estero non so mai cosa arrivano all'estero non credo che vada a vedere la finestra di fronte all'estero ce ne avranno delle finestre di fronte all'estero non sarebbe io portammo le nostre e il fatto fondamentalmente è questo, forse si è smesso di sperimentare dal punto di vista del linguaggio dal punto di vista degli effetti visivi, degli effetti speciali cioè ricordiamoci che comunque il cinema come avete detto giustamente voi è un'esperienza estetica quindi di conseguenza se vado al cinema voglio essere sorpreso, spiazzato se è una cosa che posso vedere su uno schermo scarcagnato come diceva lei evito, ce vado, lo guardo sul computer quando me va, quando capita dov'è il cinema adesso? è vero il cinema è in televisione in America paradossalmente questo perché? perché ci sono state tutte le viatribbe con Brighter Guilds of America i sceneggiatori hanno scioperato, perché? perché i soldi oggi circolano sulla televisione è ovvio che lo sceneggiatore quando firma per HBO una stagione lunga, 12 episodi viene pagato un pacco di soldi e lui dice adesso faccio ballare la scimmia, signori adesso la faccio proprio uscire, la faccio ballare faccio meno il camperlaio, 12 puntate perché ovviamente vedi una serie a me è successo per esempio guardando Narcos, Breaking Bad, Marco Polo cioè le prime 2-3 puntate è una bomba cioè stai in fibrillazione poi già la quarta, la quinta avverti una sorta di presa per il culo cioè perché chiaramente stanno diluendo un brodo che te vogliono portare avanti per un bel po', non solo per una stagione ma J.J. Abrams insegna che a ballare la scimmia ce ne sta da ballare sta scimmia tra codici, cose, isole che volano, si muovono insomma, e questo è quanto quindi alla base ci sono sempre e comunque le idee credo, perché senza le idee lontano non vai anche perché è un film basato sugli effetti speciali gli Avengers ci stanno preparando adesso hanno creato queste telenovelas con i supereroi e ti dici, oh guarda Torre si è messo si è messo con vedova nera se non mi frega con chi esce da fare una sera cioè a me è interessato che sparca il culo all'occhio e quello deve essere poi preferibilmente dovrebbe morire perché il cammino dell'eroe si ferma lì poi lui che torna a casa tipo è un talcolizzato gli antieroi ce ne abbiamo avuti abbastanza dagli anni Ottanta e poi sicuramente il cinema non è in Italia ma non è in Italia come sperimentazione perché da quel giorno che fu che Rossellini entrò al centro sperimentale e mi disse ragazzi diventò direttore del centro sperimentale e gli disse ragazzi il cinema non si insegna signor direttore cosa sta facendo? non vediamo cosa vogliamo fare? facciamo un picnic qua davanti all'albio Claudio se ne andiamo in Camporella poi insomma sono arrivati i vari rubini i vari moretti che ci hanno dimostrato che si può fare un film con pochi soldi il problema è che non sono tutti i rubini e i moretti cioè devi essere i rubini e i moretti per far cinema senza la lira ci possiamo provare ci possiamo ingegnare ci possiamo drogare ci possiamo fare quello che deve fare l'idea da qualche parte deve scippare fondamentalmente se non ci riusciamo a farlo con i botti a colori come fanno gli americani evidentemente è il caso che non ci nascondiamo dietro al dillo dell'autorialità perché spesso volentieri finiamo ah ah canna però si va da quello nel mercato cioè se vinci il problema è che al cinema ci mandi le persone con il buzz il buzz che cos'è? il passaggio di parola cioè il tuo amico la persona di fiducia perché noi siamo italiani la raccomandazione esiste anche da quel punto di vista te lo deve dire qualcuno che conosce della quale te figli perché se te lo dice il critico di turno se te lo dice Mereghetti se te lo dice anche stigliarsi cioè dopo il suo tempo magari un giorno se c'è capito davanti nello sparo magari bomba però insomma non è che in fogliato prendo la macchina e vado al cinema e questo è quanto molto giusta la questione che nel web dobbiamo essere noi stessi cioè una rappresentazione di noi stessi anche perché non esisterebbe il diario personale a giorno d'oggi quindi è importante che quello che mettiamo su internet sia sincero cioè sia la manifestazione di quello che realmente siamo non sia un costrutto anche se molte persone hanno impermiato un business su quello più che altro direi di condividere dei contenuti fare attenzione a condividere dei contenuti o istruire le persone a condividere dei contenuti perché molti ragazzini lo fanno senza pensare cioè lo fanno esponendosi lo fanno rendendosi ridicoli anche diventando spesso e volentieri dei fenomeni da baraccone che non fa bene cioè porta tutta una serie di traumi come così cioè internet cosa viene fruito maggiormente su internet al giorno d'oggi lo zimbello il problema è che una volta quando venivi bullizzato preso per il culo si limitava a una questione di 30 persone in una classe e se fai una figura di merda arrivi a Hong Kong da Milano fino a Bangkok è un problema quindi ci vuole più responsabilizzazione soltanto quella manifestare se stessi va bene molto buono non è cinema perché giustamente il cinema è una serie di canon e questo è quanto grazie 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 Grazie.